Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Roblox Per la prima volta sul mio canale Penso di Sisa, non è giusto un altro video E oggi abbiamo una missione importantissima Il signor Locchi che ci sente Dalla lontananza, vero? Sì! E' stato rinchiuso in prigione Perché ha fatto lo scemo, ha fatto un po' di rapine, ha fatto un po' di furti Ha maltrattato Locchino E' maltrattato Locchino ed è stato chiuso in prigione Quindi oggi andremo a salvarlo Pronti raga con un sacco di mi piace? Arriviamo a 2000 mi piace e vai con la sigla Ok ragazzi, allora Dobbiamo andare a salvare Lollo che è all'interno della prigione Ci siamo travestiti da poliziotti In modo che possiamo fare un sacco di cose fighe Abbiamo anche la testa per poter aprire le porte Abbiamo un sacco di cose magiche Per permesso, grazie Ma la cosa brutta è che Lollo è stato intrappolato Insieme a tutti gli altri prigionieri Perché ha maltrattato Locchino, giustamente Però è stato intrappolato lo stesso E' solo che adesso ho un po' un problema a scappare Perché ci sono tanti, tanti, tanti poliziotti E pochissime persone che lo possono aiutare Quindi Lollo, sto venendo da te a salvarti Ok? Grazie Sto scendendo giù nelle celle Non c'è nessuno C'è un altro poliziotto Occhio, c'è un altro poliziotto Attento Ok Mi sta seguendo il poliziotto Mi sta picchiando il poliziotto Ma sei un poliziotto Ma mi sta picchiando Impossibile Oh, buono Mi ha fatto tutto lo schermo rosso Ok Qual è la tua prigione? Qual è la tua cella? 1, 2, 3 Non ci sei 4 Non ci sei Non ci sei Non ci sei Ma ma il contatto Ma che? 5, 6, 7, 8 Sono qua sotto Ma, Lollo Stai facendo via? Oh, ciao Ciao Teo, non posso uscire Aspetta Ok, ok Lo porto via Lo porto via Ehi, aspetta, guarda Lo porto via Guarda, io sono sdraiato qua Seguimi 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 Sto facendo i compiti Seguimi Poliziotto Mi segua Seguimi Seguimi Vieni 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 Ok, ha scritto Vieni qua Vieni Vieni Ok, vieni qui Vieni qua Vieni qua Dimmi quando sei sulle scale Dimmi quando sei sulle scale Vai, rimani là Rimani là Aspetta qui Conta fino a 10 Dai, ma te sono indietro Sono passato Veloce Vai, 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 vai Al primo sono riuscito Vai, vai, vai Adesso Vai, vai, non ti seguo adesso Vieni, vieni, vai Vieni, entra qua, entra qua Entra qua, entra nella sala da lì Entra qua, dentro, entra qua Sì, sì, entra lì Fermo, un secondo, fermo Che stai facendo? Ciao No, mi hai rubato la tessera No No Oh, ridammi la tessera tu Non posso Va bene, allora andiamo Andiamo adesso Vieni, 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 vieni Aspetta che ci sono dei poliziotti È tutto a posto È tutto, tutto a posto Tranquilli Signora Blonde Non ti faccio passare No, non puoi passare No, non puoi neanche saltarmi Dai, veloce, devo fare una chiamata Uno, due Quattro Chiamare il contatto Passa di qua, passa di qua È chiuso qua, è chiuso? Oh, è chiuso Ok Passa di qua, passa di qua, passa di qua Vieni qua, vieni qua Ma c'è la tipa No, non ti guarda È di schiena, è di schiena È di schiena Ciao, ciao signora Come va? Tutto bene? Eh? A posto Oh mio Dio, ci sono i poliziotti Stanno uscendo Dove, dove, dove Non ti ho perso Ti sei andato troppo velocemente Sono dietro un albero No, ma, ok Ti ho visto, ok Ma sono vinta di niente Ti copro, ti copro, eh Ok Ok Non mi ha visto Non mi ha visto, non mi ha visto No, c'è un altro che arriva Nasconditi No, mi sto nascondendo qui dentro Ti stanno seguendo in due Dove sei andato? Dove? Qua, scappa, scappa lì, scappa lì Scappa Aiuto Scappa, prendi la macchina Prendi la macchina Non possiamo, costa troppo Prendi l'altra macchina Fammi guidare a me Fammi guidare a me Fammi guidare a tu Devi guidare tu Vai, monta Sali, 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 sali Ok, ok Ho preso il palo, scusami Vai in mezzo C'è un coso per aprire le porte Vai in mezzo Vai, Lalla, sì Posso cambiare Attiva le sirene Così sembra che Come li attivo le sirene? Come? Basta Eh, non ci sono Te lo ordino Sono sceso Che ti è? No No, Lalla, li stanno seguendo No, Lalla, no No, Lalla, torno indietro Torno indietro Aspetta Stai andato, stai andato Stai andato Mi stavo scherzando Scendi, scendi Fammi guidare a me Vai Ok, vai Il tasto F è per quelle sirene Esatto E non me l'avevi detto Ok, siamo in città Siamo in città Dobbiamo tornare al nostro covo Il nostro covo? Abbiamo un covo? Ah, giusto Abbiamo un covo Abbiamo davvero Abbiamo un covo Non lo so Gattaci covo Gattaci covo No, ma così mi prendono Teo Ti sei messo così Ma puoi metterti così? Ma entra dentro Ah, ok, scusa Vai, vai, vai No No C'è bloccato No Matteo Scappa 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 Non ci prenderanno mai Dov'è il museo? Non ci prenderanno mai Abbiamo solamente un elicottero Dietro la schiena Manco 5 stelle su GTA Guarda con l'elicottero Stanno andando dritto quello Non ci ha visto? Ci ha perso? Vai Che tose Ti ho investito No Sali, sali, sali Ok Vai 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 Ma che Ma che Vabbè scendi Scendi, scendi Fate la piedi È più veloce delle montagne Lascia la luce accese No, così si va Che aspetta Come facciamo ad arrampicarci qua? Ok Vieni, vieni al museo Vieni al museo C'è gente qua C'è un altro ladro Ti lascio andare È il nostro amico È il nostro amico È il nostro copo Giustamente È il nostro amico Sì, però Ti ricordo che tu sei Travestito da poliziotto Non so se lui ti riconosce Ah, infatti sta scappando Tranquillo caro Non voglio ucciderti Invece sono un poliziotto E lo blocco qua Eee Ma cosa stai facendo? Dio Ma sono entrato in macchina con lui? Come faccio a farlo scendere? Non puoi scendere Allora niente Ma che si sta facendo? Mi è rimasto qua immobile Oh, eccolo Arrestiamolo Ma no Ci ha preso La nostra macchina No, scusa Stavo arrestando te Scusa Stavo arrestando te No Arrestando te Come le levo? Come le levo? Fare che tu mi dovevi Come le levo? Non vuoi No No Sei di me in prigione Vengo a prenderti Giuro Ce l'avevano così fatto No, scusa Cioè tutto lo scopo Era liberarmi E mi è riarrestato Scusa E pensavo fossi l'altro Tutti i vestiti d'arancioni Cambiatevi vestiti ogni tanto Ma sono l'unico Con i capelli azzurri Su Roblox È sopra la macchina Non l'ho proprio visto Lollo stavolta Non possiamo fallire Sto arrivando con un elicottero Dove sei? Lo sento Dove sei? Sto uscendo Dove sei? Ti vedo dietro 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 Aggrappati 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 Ho lanciato la palla giù Aggrappati No, è caduto Aggrappati Mi abbasso Vai Ok, vai Vai Andiamo 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 Ci sei? Sto scappando Ci sei? Si è attaccato? Wow Fa freddo Fa freddo? Dai tranquillo Lo vedi l'albero? Non prendere gli alberi Non prendere gli alberi Non prendere i camion Non prendere l'alta tensione Per favore Matteo Mi fa male le mani Non in acqua No, non ti lasci in acqua Tranquillo Il palazzo lo vedi? No Atterriamo sopra un grattacielo E facciamo che diventerà La rapina Che rapina devi fare? Qua Qua? Ah, grazie Ok, sono sceso anch'io Che dobbiamo fare? Io sono sceso così proprio Se ti faccio, sei sceso Cosa dobbiamo fare? Aspetta un secondo Sto controllando se le luci sono a posto Sono a posto? Teoricamente sì Dovrebbe essere Si è faggato Lollo No, Matteo Che è successo? Fermo No, mi sei venuto davanti Ah, scusa, che stai facendo? Fatto Ok Ma Adesso un'elicottero con le pale rosse Ma Ma dove stiamo andando? A rapinare Rapinare cosa? La gioielleria Ma vuoi già farti arrestare di nuovo? Vabbè Guarda Ma è il laser Sì Vai, entra Salta Se no mori Prendi a pugni Ok Vai, vai Spacca tutto Spacca tutto Teoria No, non sei un po' lì sotto Mi fa spaccare niente però Mi hanno visto le telecamere Vai, vai, vai No Cos'è esploso? Sono esploso di telecamere? No, il telecamere non è esploso di me Ah Sono esploso anch'io insieme a te Ma sei di nuovo in prigione, no No, non sono in prigione Sono alla base dei criminali Ok ragazzi Quindi noi stiamo tornando alla nostra base dei criminali Per questo video è tutto Speriamo che Lollo non si faccia riarrestare di nuovo Anzi, tirami su con questa palla Che se no Rimango qui Vai, attivate la dinamite Vai, attivate la dinamite, 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 dinamite L'ho attivata, Lollo Mi puoi spostare, per favore? Esplodo con la dinamite, se no Tirami su Ma cosa è successo? Calami dentro Aspetta, sento sulla trave Ok, vai Ci sei, Tero? Ci sono, vai Vai Ho fatto anche saltare l'allarme Ok ragazzi Quindi per questo video è tutto Io e Lollo vi salutiamo Lollo non farti restare più Perché io non vengo di nuovo Sono morto Ok, comunque Non vengo a liberarti da un'altra volta Capito? Quindi stai attento con le tue rapine Certo E ti ho fatto fare tutto Da Lollo anche Sono usciti anche altri video sul Roblox Sul canale di Lollo insieme a me Dagli da vedere Ti ho fatto fare tutto Da Lollo anche credo Te lo bellissimo mi piace No, io sto rubando il museo Allora ci sentiamo dopo Dai, vieni allo studio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti